Lui ha avuto dei problemi subito in ritiro, ad un piede, e quando sembrava fosse a posto ci è ricaduto un'altra volta, quindi è stato fuori per tanto tempo. Non ha tantissimi allenamenti sulle gambe, però spinge sempre forte. Lui è un ragazzo che ha grande dinamismo, ha grande forza, e chiaramente ha anche una concorrenza importante qui alla Fiorentina, però è un ragazzo serio, un ragazzo che si allena, è un professionista esemplare. Penso che quello che dà in allenamento gli può consentire di avere anche minuti importanti. Adesso ci sono queste tre partite, oggi è entrato bene, sono contento, perché non è facile dopo tanto tempo, quindi è un ragazzo che farà bene. Sono convinto perché ha la testa da calciatore vero.